Ciao a tutti ragazzi e abitatori sul canale, come va? Spero che state bene, che state trascorrendo una splendida giornata. In questo primo video di oggi non voglio parlare di calcio, perché parlerò di un argomento che ho già trattato nel video del nuovo studio, che, caso ritardo, dovrebbe essere pronto attorno a metà di settembre. Allora, vi avevo parlato però in quel video del mio futuro setup, quindi schivania 160x80, monitor a staffa, case del computer messo purtroppo sotto, perché avevo avuto una schivania più grande, ma ahimè lo spazio è quello che è, quindi più grande di questa però ho dovuto un attimino giocare di misure, e poi ovviamente ho il MacBook Air come secondo monitor, e poi la staffa per un nuovo microfono. Io adesso utilizzo un Blue Yeti X, microfono che adoro, ma vi spiegherò appunto un piccolo cambio di programma. Prima di andare a noccio a quest'ora, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, fate a campione dell'ottività, fate sempre aggiornati, date uno sguardo alla presentazione dei calciatori e passatevi a trovare sul gruppo Telegram. Vi spiego un pochino il mio ragionamento. Allora, io ho il Blue Yeti X, microfono che amo, però così come il Blue Yeti vede le dimensioni molto consistenti. Infatti se magari lo posizioni in modo diverso, basta che mi muovo un pochino il gesticolo, ecco che non mi vedete più. Quindi ho deciso di cambiare un pochino soluzione. Avevo optato per il Rode NT USB. Poi una sera, parlando con Amedeo del canale The Great Ame, vi invito ad andarlo a seguire, anche lui è un Blue Yeti, anche lui è un pochino la problematica che riscontro io, quindi la presenza troppo ingombrante di questo microfono. E quindi, nonostante la resa fenomenale, comunque rispetto al Rode NT USB, ha quattro pattern, mentre l'NT USB è soltanto un cardioide, quindi è un po' più specializzato, più dato il voice over e per i video, insomma, che registro io. Però poi Amedeo mi ha messo in testa questo tarlo, il discorso Lavalier. Allora, io ho già un lavallio USB che utilizzo per registrare in macchina, però poi unendo queste due cose, ho detto, in effetti ho un microfono USB, già ce l'ho, e sono pienamente soddisfatto del Blue Yeti X. Quindi, perché prendere un altro? Magari conviene investire, cercare un'altra soluzione che impedisca, insomma, questa situazione qui, no? Un po' più centrale. Magari così, insomma, evitare questa copertura di viso. Allora, ho un pochino scartabellato, qui sotto c'è un pacco, vi farò vedere due oggetti che poi spoilereranno, ovviamente, il terzo, che è appunto il microfono. Ovviamente il Blue Yeti X lo utilizzerò per registrazioni di video, come ad esempio la lavagna tattica, o per le live che utilizzo la webcam, e quindi magari, ecco, non è così ingombrante il Blue Yeti, come avete potuto vedere. Però per video come questi qui, appunto, l'altra soluzione è migliore. Il Blue Yeti lo continuerò ad utilizzare in modo più contestualizzato, perché comunque il microfono lo ha. Primo oggetto, ovviamente, adattatore, PIN 3.5 Lightning, e questo qui, ovviamente, mi è essenziale, perché oggi, stando con l'iPhone, mi tocca avere per forza un adattatore. Poi, il secondo oggetto, che in parte, vi spoiler anche abbastanza, cavo TRRS, prolunga, della Roll. Quindi, non ho cambiato brand, ho cambiato il form factor del microfono. Perché, ripeto, io della Roll sono veramente innamorato, e quindi ora andremo un pochino a vedere come, quello che è effettivamente questo prodotto. Perché poi, ripeto, anche questa cosa qui è molto, molto, molto importante per quanto riguarda il microfono in sé per sé. Ecco qui, un cavo TRRS, al momento c'è il jack femmina, e bello lungo, devo dire, dovrebbe essere 6 metri. Beh, una bella lunghezza, insomma, per... per un microfono, però, ripeto, io, a caso non avevo anche più spazio, sto anche pensando a soluzioni alternative, non semplicemente questa inquadratura, così, però magari fare... utilizzare magari anche lavagne che mi richiedono un pochino più di distanza. Quindi, appunto, la valiae wireless è una soluzione un pochino... una soluzione un pochino... adattabile per la macchina, per migliore un po' l'audio, però, lo so. Soluzioni migliori ci sono. E qui è la soluzione definitiva. Il Smart Lab Plus, un microfono, ovviamente, la valiae, però, omni-direzionale. Quindi, che il microfono sia così, quindi, così, o così, o così, o così, non cambia assolutamente niente, perché, appunto, è omni-direzionale. Certo, all'aperto potrebbe tendere un pochino a riempire, a cogliere quel piccolo rumore di fondo, che può essere un pochino di vento, il cinguito dell'acqua, ovviamente, qui dentro c'è il piccolo gatto mortino da mettere sopra il microfono, però, ripeto, potrebbe essere la soluzione migliore, per il mio caso, perché, ripeto, mi darebbe molta più elasticità nella registrazione, e non da meno, insomma, posso anche allontanarmi per, in caso, appunto, eventualmente, utilizzo di lavagne o ste cose qui. Vediamo un pochino cosa contiene anche la confezione, perché veramente lo vedo adesso. alla piccola pochettina, ovviamente, classico dei microfono lavalier, poi, il manuale di istruzioni, che ovviamente utilizzerò poco o niente, perché, voglio dire, ho già utilizzato più lavalier, quindi so come vanno utilizzati. Ah, un altro motivo per il quale ho deciso di utilizzare il Rode, è perché c'è un'applicazione Reporter, che si può scaricare direttamente sull'iPhone, e perché, anche su Android, perché è un microfono appositamente pensato per registrare con gli smartphone, quindi, con quell'applicazione, puoi ottimizzare la resa del microfono, ovviamente, quando poi si utilizzasse l'iPhone, o lo smartphone Android, per registrare la traccia audio, che poi va convertita in Wave, in MP3, quello che vi pare, portatevi poi su un computer, o su un Mac, o su iPad, o chi che sia, per poi unire appunto la traccia video, o meglio, la traccia audio, la traccia video, quindi è ottimizzata con il Rode Reporter, io ovviamente, se devo utilizzare il programma di editing, utilizzo al computer, o all'iPhone, scusate, o al MacBook Air, utilizzo comunque il Blue Yeti, in caso in viaggio, posso sempre utilizzare appunto, anche il lavalier con il MacBook Air, staremo un po' a vedere, però, anche questo supporto software, è molto interessante, perché ti può dare una qualità maggiore, se registri, con il lavalier, sull'iPhone, o su Android, con, insomma, l'applicazione Rode Reporter, allora, vediamo cosa c'è qui dentro, allora, vediamo, 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 allora intanto, porco mondo, porco mondo, me lo immagino veramente, un pochino, un ciccinino più grande, perché guardate, veramente, lo Smart Lab, è, piccolo, piccolo, attimino che tolgo, questa, carta, beh, non ce la farò mai, soprattutto, in diretta video, comunque, per farvi vedere, veramente, piccolino, piccolo, 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 ragazzuoli, non me lo immaginavo, assolutamente, non me lo immaginavo, assolutamente, una dimensione così, anche perché, dall'immagine, sembrava, anche più grandino, quindi ho detto, sai che, ok, va bene, ovviamente, c'è anche, il suo gatto morto, il gatto morto, che va tolto, per poi, mettere ovviamente, la clip, la clip, poi da mettere al bavero, intanto, non ce la farò mai, togli, questo, cacchio, di, questa, carta, pastificata, e, oh, ecco qua, veramente, piccolo, 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 qua, ovviamente, c'è il gatto morto, che va tolto, ecco qui, poi qui, va applicata, la clip, ovviamente, per attaccare al bavero, e, ovviamente, il, il capo, TRRS, che poi va collegato, appunto, alla prolunga, ragazzi, sono curioso, veramente, di provarlo, perché, sì, sono molto curioso, quindi, nei prossimi video, sicuramente, sentirete, la resa di questo microfono, ovviamente, dentro la scatola, vi ha anche, appunto, la, la piccola clip, un attimino che, ve la faccio, guada, ecco qua, questa, poi, ovviamente, va messo, il microfono, qui dentro, e poi, insomma, si può applicare, dove si vuole, essendo, appunto, un, 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 un lavalia, unidirezionale, che sia così, o che sia così, o per diagonale, non fa solamente, ne so, differenza, bene, io, penso di aver detto tutto, di questo microfono, di avervi fatto capire, il perché, della mia scelta, quindi, non mi resta far altro, che, inizio, innanzitutto, rinviate al prossimo video, fatemi sapere, qui sotto, cosa pensate, se, vi è mai capitato, di utilizzare, i microfoni USB, o l'avalier, o proprio, lo stesso, Smartphone Plus, quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, e fate la campellina, passate, ma trovate su Telegram, e, date sempre un'occhiata, alla prima di spresentazione, dei calciatori, vi mando un abbraccione, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!